La disconnessione da se stessi può essere il risultato di varie circostanze. Stress prolungato, esperienze traumatiche, vita frenetica, pressioni sociali, cambiamenti significativi, abuso di sostanze, perfezionismo. E può manifestarsi in vari modi. Di seguito elenco 10 segnali d'allarme. 1. Non sai come ti senti 2. Ti trovi sempre indeciso. 3. Non conosci i tuoi bisogni 4. Spesso ti preoccupi che qualcuno è arrabbiato con te. 5. Senti come se mancasse qualcosa nella tua vita, anche se esteriormente sembra tutto ok. 6. Dipendenza da distrazioni. 7. Difficoltà a rilassarsi. 8. Senti come se la tua vita ti sfuggisse di mano. 9. Non riesci a mettere dei limiti dove vuoi tu, dove per te sono necessari 10. 10. Accontenti gli altri. 10. Spesso a tuo svantaggio. 11. Stabilire limiti sani nelle relazioni è essenziale per il proprio benessere. 11. Imparare a dire di no e a proteggere il proprio spazio personale ti permette di mantenere relazioni equilibrate e rispettose, 12. Migliorando la qualità della vita. 12. Per connettere con te stesso è necessario riflettere sui propri valori, per vivere una vita autentica. 13. Prenditi del tempo per identificare ciò che conta davvero per te. 14. Cerca di allineare le tue azioni quotidiane con questi principi fondamentali. 14. Ridurre le pressioni esterne può liberarti da aspettative inutili. 15. Concentrati su ciò che ti rende felice e soddisfatto, ignorando la necessità di conformarti a standard imposti dagli altri. 16. La tua felicità viene prima di tutto. 17. Accettare te stesso significa abbracciare anche le tue imperfezioni. 18. Impara a perdonarti per gli errori e a vedere il tuo valore intrinseco. 19. Questa autoaccettazione ti permetterà di costruire una vita più serena e appagante. 19. Prendersi del tempo per sé è fondamentale per il benessere mentale ed emotivo. 20. Dedica momenti quotidiani alla riflessione e al rilassamento, lontano dalle distrazioni. 21. Questo ti aiuterà a riconnetterti con te stesso e a ricaricare le energie. 21. Se riconosci questi segnali in te stesso, non esitare a cercare aiuto. 22. Iscriviti al nostro canale per ulteriori contenuti sul benessere personale. 22. La tua salute mentale è importante.